ola tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi andremo alla ricerca di non uno ma di ben due lama su minecraft mi avete consigliato un sacco di nomi ma alla fine ne ho scelti due veramente bellissimi detto questo il video con me sembra c'è un pollice in su cerchiamo di superare i 2234 like per questo video iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti e detto questo vi direi che possiamo iniziare subito indovinate che ha iniziato il video di notte va bene ok allora ragazzi abbiamo noi qua due name tag che useremo dopo per dare il nome ai nostri due lama che andremo a cercare oggi e se riusciamo volevo anche creare una piccola casettina per i nostri lama sempre se riusciamo a trovarli ora dov'è qua il mio bellissimo arco guardate il mazzo col piccone ecco proprio come sfregio così per prima cosa dobbiamo andare nel nostro laboratorio a prendere del grano perché il grano ci servirà per darlo ai lama e quindi per fargli fare i cuoricini so che i lama non si possono cavalcare o meglio si possono cavalcare ma scegliono loro dove andare ragazzi purtroppo la farm di carote e patate non funziona non so per quale motivo se veramente sapete un motivo valido per cui questa farm non funziona scrivetemelo qua sotto nei commenti con l'hashtag vanilleme comunque cosa andiamo a fare oltre a fare le balle di grano che si fanno così 7 dovrebbero più che bastare non ci portiamo anche uno stack di grano uno stack e uno anzi bene 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 possiamo subito uscire comunque dopo questo episodio mi sa che inizieremo un paio di episodi inerenti all'avventura quindi ragazzi preparatevi perché a breve ci saranno alcuni episodi sull'avventura qui andremo in giro per il mondo faremo qualche progetto per il mondo e vediamo un pochettino cosa riusciamo a combinare come sapete ogni volta che noi partiamo per andare in giro per il mondo finiamo in mezzo ad un'avventura mistica che tipo ci ruberà sempre qualche episodio quindi noi basta che ci mettiamo in giro con l'elitra e via partiamo all'avventura adesso volevo prendere un carpet grigio e un carpet rosso abbiamo il colorante grigio però forse dei carpet già li abbiamo fatti infatti già un carpet rosso c'è qui però forse non abbiamo il carpet grigio questo qui light grey purtroppo mi sa ragazzi che ci tocca fare dei carpet si dobbiamo farli per forza così perché infatti non li ho mai fatti grigi quindi sbammete tac ne abbiamo tre a noi ce ne serve soltanto uno ora dobbiamo prendere anche delle palline di slime quindi ne prendiamo boh un tre e ci serve e ci servono anche delle string ne abbiamo soltanto 22 qua dentro così poche guarda ne prendo per ora 11 poi al massimo le vado a posare e craftiamo subito ragazzi dei laid eccoli qua ne possiamo fare due ed è quello che ci serviranno appunto le altre string e anche la pallina di slime non ci servono più possiamo tutto quanto e direi che abbiamo lo corrente necessario per andare alla ricerca e per prendere i nostri due lama forse mi ha accorto di razzetti ma non preoccupatevi qua dentro ne abbiamo un bel poco abbiamo ancora uno stack di duration 3 e poi abbiamo due stack invece di duration 1 a breve dovremmo anche craftare degli altri razzetti comunque ne prendiamo 32 e hopla allora questo piccolo è un silk touch in realtà non ci serve quindi mettere soltanto qui una spada la shulker la mettiamo qua e via non siamo partiti chissà se riesco a salire no raga voglio provarci ce l'ho fatta oh ok ora sono contento bene 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 allora noi abbiamo incontrato dei lama verso il bioma di aerobrine quindi io mi andrei a dirigere proprio verso il bioma di aerobrine a questo punto mamma io quanto sono belle queste due statue sono forse una delle build più belle nel mio mondo allora le avevamo viste noi ahia uh sono fermati qui era tutto calcolato si 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 eccoli eccoli qua ma la mia domanda è perché lì tutto buggato ok no uh c'è il lama che piace a me ok allora qui ragazzi abbiamo un lama questo e gli altri sono tutti simili c'è quello bianco beh no prenderei questo qua questo punto prendiamo questo e questo qui allora per prima cosa dobbiamo fare così come vedete li stanno prendendo ma si ripiglia tutti ah no giusto sono stupido perché noi dobbiamo salirci sopra fin quando non farà i cuoricini e uno le ha fatti perfetto quindi tu stai fermo qua ora sei mio mentre tu sai vai forza fai i cuoricini ci ha buttato giù no 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 fai i cuoricini ok ho capito pure tu sei mangione dai 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 fai i cuoricini e ecco qua a questo qui ragazzi mettiamo il carpet rosso e ci sta mi piace ma a lui mettiamo naturalmente dopo aver mangiato un paninetto dai sono anche buono mangia ti no mangia ti ti volevo dare il gra vabbè va a lui ragazzi mettiamo il carpet grigio è d'obbligo mettere il carpet grigio a lui magari se non ci facesse neanche buggare cioè raga quanto è mlg quanto è mlg e infatti ho un bel nome per lui siccome non possiamo cavalcarli noi possiamo prenderlo con il lazzo e possiamo portarcelo dietro appunto con il lazzo e se da come vi ho detto voi dovremmo riuscire a fare una sottospecie di carovana con i lama e infatti ragazzi guardate stanno venendo con noi ora non so se passiamo da questi qui se riusciamo si raga ma ce li portiamo tutti raga ce li portiamo tutti quanti oh mio dio di lama ragazzi no no ce li portiamo tutti piano piano cioè raga ci stiamo portando 42 lama dietro con noi vabbè è perché forse abbiamo come lama un leader veramente ragazzi dopo vi dirò come li andrò a chiamare ma penso che già forse li avrete visto dalla copertina del video o dal titolo perché penso che farò come titolo ad esempio vi presento nome 1 e poi nome 2 ma probabilmente dai portiamoci di tutti dietro piano piano senza fargli prendere danno naturalmente certo sarà un viaggio leggermente lungo però vabbè ragazzi ne varrà sicuramente la pena cioè raga ci stiamo portando proprio troppo divertente l'importante è che non ne perdiamo nessuno ma quanti sono 1 2 3 4 5 6 lama no sono 7 ok allora scendiamo per di qua e facciamo un percorso più o meno facile è importante che non muoiono perché se muoiono i lama veramente piango poi io poi scracchiano questi niente i vecchietti al circolo che che gioca una scala 40 che ne so a briscola nel frattempo che stiamo facendo tutto questo percorso insieme ai nostri lama che poi in realtà io potrei fare anche così per averne già 4 così è sicuro che gli altri ci vanno a seguire sto pensando a come fare una piccola struttura dove tenerli perché comunque ragazzi questi 7 lama ci penso di prenderne 2 non 7 quindi va bene no 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 è lui venite qua dovete seguirci dobbiamo aspettare che forse anche lui salga 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 a bordo cazzo che ore sono eh raga no qua abbiamo 2 minuti di tempo fa notte se fa notte è la morte siamo arrivati però già al villaggio giapponese il che non è male ragazzi non ce l'abbiamo allora 1 2 3 4 5 6 7 vai 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 raga a questo punto a queste altre 5 lama che nome gli do non gli posso non dare un nome quindi penso che nel prossimo episodio gli darò dei nomi anche daremo dei nomi ai ai iron golem perché ho visto mi hanno consigliato anche un sacco di nomi fra cui un nome un pochettino ferroso raga 1 2 3 4 5 6 ecco avevo perso il settimo dai prima che faccia notte 1 2 3 4 5 6 avevo perso il 6 vabbè raga sentite 6 lama basta in avanti dobbiamo prenderne 2 per caso o meglio andremo a ripescare un altro raga io farei una cosa vi attacco qui vado subito a dormire subito subito dormiamo cioè ci ho messo ragazzi quasi un quarto d'ora a prendere dei lama a portarli qui che poi io gli sto facendo fare un giro che non dovrebbero fare dobbiamo andare dall'altra parte perché la casettina dei lama ragazzi volevo farla accanto al mulino temporaneamente c'è una casettina temporanea ecco poi appena avrò un'idea più bella eh le andremo a fare allora andiamo no di qua c'è l'acqua eh andiamo per di qua eh ora ragazzi dobbiamo fare un percorso leggermente difficile ma non più di tanto perché siamo praticamente arrivati noi portiamoceli sempre dietro con noi speriamo che non si buggano da qualche parte che hai soprattutto quelli con l'accio noi basta che camminiamo piano piano ok qua la vedo dura quindi prendiamo le nostre cesoie facciamo un passaggio vai che figata sto passaggio in mezzo agli alberi così cioè ora da sette chissà quanti ne abbiamo portati realmente ok ora facciamo un giro per di qua sono uno due tre ah qua sono raga non ci sto riuscendo più a contare sono sempre sei dai ne abbiamo perso abbiamo perso il settimo ragazzi quindi mi sa che ci sarà la leggenda del settimo lama che boh chissà poi dove finirà no raga mi si è rotto il laccio degli altri vabbè ok ragazzi ce l'abbiamo fatta l'abbiamo portati dove volevo io dobbiamo soltanto attaccarli in un punto cioè alla fine no non scappano i lama cioè neanche desponano quindi visto i lama sono qua ne approfitto subito per iniziare a creare una piccola cassettina per loro ok li lasciamo per ora qui andiamo a casa prendiamo degli oggetti da costruzione e cerchiamo di fargli una piccola tana ecco ma questa pecora che ci fa qui torna dentro premetto non voglio fare nulla di troppo complesso di troppo bello quindi un qualcosa molto ristretto soltanto per appunto cercare di non farli morire quindi io prenderei della della caccia si potrebbe tornarci utile eeeh dello spruce wood ok poi ok queste qui ci possono stare prendiamo anche queste qua delle slab eh non farebbero mai delle slab quasi quasi delle scalette queste slabine le prendo dai ci sta ci sta ok rieccoci qua ragazzi allora mentre lo stanno qui oddio che planata che ho fatto allora devi piacere intanto qua a terra la shulker box sempre con dentro gli oggetti di build e abbiamo degli oggetti abbastanza eeeh utili direi allora io sinceramente pensavo di fare se abbiamo degli stone brick e li abbiamo gli stone brick ok non abbiamo stone brick oddio che è successo raga non ho chiesto che è successo qualcuno ha beccato il mio lama c'è qualche mob è nascosto qui eccolo volevi beccare il mio lama con il tuo arco schifoso ecco l'ha pure droppato il suo arco schifoso faccia talmente schifo che l'ha pure droppato da morto comunque ragazzi pensavo di fare un piccolo contorno tipo così fare qua tipo una roba in questo modo continuare così fino a qua sotto anzi farei una cosa qui farei così e qui lo alzerei di sempre di uno va ok lo facciamo alzerei di aia ancora ma io non capisco ma dove si spavano bu comunque usiamo questo slab perché voglio fare utilizzando adesso mai l'aiuto dei blocchi di terra per fare un piccolo tetto un mezzo tetto a spioventi diciamo quindi così e così a posto direi che come altezza va più che bene e ora naturalmente andiamo a prolungare per così naturalmente abbiamo già finito le slab quindi ci tocca craftarle ragazzi ho finito la cassettina dei lama e adesso io di un momento dei due nomi allora il primo ovvero per il lama rosso si chiamerà sputify da spotify abbiamo sputify perché il lama sputa il secondo invece quello con gli occhialini mlg dove dai un nome mlg quindi andiamo a chiamare noi just sputo just sputo abbreviato js quindi top perfetto andiamo a dargli il nome vi faccio vedere un pochettino cosa ha combinato e naturalmente dobbiamo anche cercare oltre a salire sopra a metterli dentro il recinto perché è un pochettino difficile bisogna dobbiamo aiutarci con il lazzo certo il percorso per andare da loro è leggermente gne però va bene comunque ragazzi diamo il benvenuto a just sputo e poi naturalmente abbiamo anche sputify ecco qua sputify certo abbiamo qua una mucca che si crede un lama e va bene con questo qui è la cassettina di lama molto semplice nulla di troppo particolare fatemi sapere se vi piace o meno come potrei migliorarla in caso e adesso i nostri lazzi li dobbiamo prendere e portare dentro tanto facciamo così in automatico dovrebbero entrare oppla dovrebbero seguire ok vai 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 se ci mettiamo qua dentro questo qui lo spingiamo subito vai no tu non esci e lo riportiamo dentro questo qua ok raga così dentro no chi ci fa quello là sotto ma come ce lo porto ho un'idea se non lo sa shulker box la mettiamo qua sbam che trick raga mamma mia che trick chissà se riusciranno loro a scappare allora per scappare è veramente semplice perché guardate basta che salgono sopra il muretto salgono qua e sono usciti oppure basta salgono qua e sono usciti quindi non so se sono abbastanza intelligenti lama non lo so comunque abbiamo messo qua dentro sei lama di cui due hanno i nomi e altri quattro poi gli andremo a dare noi dei nomi il settimo lama è scomparso ragazzi ci sarà poi la leggenda del settimo lama quindi va bene ah naturalmente un lama penso che lo andrò a chiamare laggante per dare comunque un piccolo credito al lama laggante quinto prestigio allora perfetto e ragazzi che dire abbiamo qua i nostri lama e niente ragazzi direi che questo episodio può anche finire qui qui ragazzi questo episodio finisce qui spero di se vi sia piaciuto se vi fatemi sapere con un pollice in su un commento qua sotto ricorda di passare in descrizione per chi è risultato in dei miei social come instagram e telegram mi raccomando seguitemi su entrambi e se ancora non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi volendo quindi iscrivervi al canale basta che clicchiamo nell'altra che sta qui accendendo lo schermo e se già l'avete fatto potete cliccare a sinistra o a destra per vedere un altro nuovo video allora ragazzi detto questo vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo video bye bye